Grazie a tutti. E' tornata di moda alla gogna, soprattutto dopo l'avvento dei social network, dove si giudica e si iscrive offendendo con troppa gratuità. Dietro ogni storia non c'è la sofferenza soltanto della persona che subisce, tipo Leopoldo Chiaffallo, ma c'è la sofferenza di tutte le persone vicine, come la famiglia. Quindi noi volevamo sensibilizzare su questo. Grazie a tutti.